Si svolgerà nel pomeriggio di domani l'incontro tra il sindaco Mario Nugnes e il Consiglio di Istituto della Scuola Media Fedele Romani a Roseto degli Abruzzi. L'obiettivo è quello di spiegare le prospettive riguardanti il progetto di ricostruzione pensato dall'amministrazione per l'istituto comprensivo Roseto II. Una rimodulazione che consiste nell'abbattimento del plesso con successiva ricostruzione di una scuola di ultima generazione e che rientrerebbe una più vasta idea progettuale dell'amministrazione che prevede la riqualificazione di tutta l'area della cittadella dello sport a sud di Roseto dove si trova proprio la scuola media. Il Comune sta lavorando come annunciato in campagna elettorale, come stanno facendo tutti i comuni più virtuosi italiani sul PNRR per non perdere nessuna delle opportunità che storicamente l'Italia e appunto il mio Comune può cogliere. Nel fondo PNRR destinato alla demolizione e ricostruzione delle scuole, scelta politica, scelta tecnica hanno visto nell'area della cittadella dello sport, nell'area dove insiste il plesso della Fedele Romani, il sito migliore per una scuola 4.0 del futuro, una scuola che si innesterà nella cittadella dello sport appunto che avrà dei servizi innovativi e un finanziamento richiesto perché in questa fase ricordiamolo siamo solo nella fase della richiesta del finanziamento, nella presentazione delle schede di valutazione che poi una volta finanziate passeranno alla fase della progettazione che come sapranno tutti gli addetti lavori è demandata a livello nazionale al gruppo dei famosi progettisti che verranno appunto assegnati ai progetti finanziati. Insomma un processo innovativo che sicuramente vedrà in tempi relativamente rapidi la soluzione e io me lo auguro per il bene di Roseto, dei nostri figli, dei nostri nipoti direi una nuova scuola. Ovviamente i disagi e la paura del collegio dei docenti e dei genitori appunto del Consiglio d'Istituto verranno fugate qualora si sederemo nella fase in cui sarà prevista intorno a un tavolo per accogliere le idee progettuali. Domani ho voluto convocare un Consiglio d'Istituto presso la sala consigliare all'ora 18 proprio per distendere gli animi perché tra me e la scuola, tra me e il mondo della scuola, sapete da che mondo vengo, c'è sempre stato un clima disteso, ovviamente mi rendo conto che l'opposizione cerca di innestarsi, di mettere zizzagna dove si può e cercando di creare disagi, io penso che invece il bene della città voglia unità, voglia progettualità e voglia prospettive. Grazie.